Buongiorno a tutti, siamo qui con Alfiero e De Benedetti, due tra i protagonisti in Fossano-Valenzano, una vittoria molto importante, 2-1 per voi. Vi chiedo quest'oggi, servivano tre punti anche per dare uno slancio verso i play-off e la classifica finale? Sì, appunto, sapevamo che affrontavamo una squadra forte, con delle grandi individualità, però siamo stati bravi, abbiamo fatto un grande primo tempo, siamo riusciti a portarla dalla nostra, in più sicuramente il fatto che loro siano rimasti in 10 ci ha vantaggiato, anche se nel secondo tempo non abbiamo gestito molto bene la palla, di fatto abbiamo riaperto la partita, anche perché ci eravamo detti all'intervallo di non essere presuntuosi, perché affrontavamo una squadra veramente forte che anche in 10 poteva renderci pericolosa, di fatti così è stato e ci siamo giocati fino alla fine, però fortunatamente siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Tra l'altro un traguardo anche personale per te, oggi ventesimo gol in eccellenza, ti chiedo sensazioni e emozioni dopo questa doppietta? Sono molto contento, soprattutto perché i gol hanno portato alla vittoria, che era la cosa più fondamentale, per il resto passo la parola al nostro amico qua che aveva tanta voglia di parlare. La Valenzana era molto forte anche e soprattutto sull'aspetto fisico, in difesa quanto è stato difficile poi contenerli, tenerlo duro dietro? La preoccupazione più grande era che in qualsiasi momento potessero tirare fuori qualche giocata e con il fatto che nel secondo tempo hanno accorciato 2-1 la tensione era sempre alta, soprattutto per noi dietro chiaramente perché ci rendavamo conto del potenziale offensivo loro. Quindi nonostante un inizio di secondo tempo su cui in settimana dovremmo lavorare assolutamente, perché fare un grande primo tempo come abbiamo fatto e poi rientrare così rischi che poi certe partite si incanalino un po' su strade pericolose e oggi per fortuna, nonostante aver abbassato un po' la guardia a inizio secondo tempo, poi la reazione della squadra c'è stata. Chiaramente l'aiuto degli attaccanti, Bon Giovanni quando è entrato, è stato fondamentale. Alfio, tutti i palloni recuperati, il centro campo. Se continuiamo con questa mentalità qua, dal primo all'ultimo, il cammino diciamo che è questo che dobbiamo perseguire e soprattutto con queste ultime due partite dobbiamo cercare veramente di andare sempre più oltre i nostri limiti.